Ciao, benvenuti sul mio canale, io sono Jessica e oggi iniziamo a parlare delle Google Apps for Education. Ormai si chiamano Google Suite for Education, però nel video le chiameremo così, così ci capiamo meglio. In questo video in particolare vedremo che cosa sono le Google Apps for Education e come le scuole possono fare richiesta per utilizzare questi strumenti. In generale le applicazioni di Google sono quegli strumenti che Google ci mette a disposizione e che troviamo sotto i nove puntini nella pagina principale di Google. quando noi come singoli facciamo richiesta di creazione di un account a Google. Quindi Google ci riconosce, ci accetta come utenti e ci mette a disposizione le sue applicazioni. Ma il programma Google Apps for Education permette alle scuole di fare molto di più. Infatti gratuitamente le scuole possono richiedere l'utilizzo di queste applicazioni in modalità protetta. Cosa significa? Che praticamente ogni scuola diventa una piccola Google. Quindi le applicazioni Google verranno collegate al dominio della scuola, ad esempio nomescuola.gov.it e all'amministratore o agli amministratori indicati dalla scuola sarà concesso di accedere ad un pannello amministratore. All'interno di questo pannello l'amministratore potrà creare degli utenti. Quindi non saranno i singoli utenti a fare richiesta per entrare all'interno di questo spazio e quindi per usufruire anche degli strumenti, ma sarà l'amministratore a decidere chi può entrare all'interno di questo spazio protetto. La cosa molto interessante è che l'amministratore non soltanto può decidere chi può entrare all'interno di questo spazio protetto, ma può decidere quali applicazioni possono essere attivate per i diversi insiemi di utenti. Oltre a questo l'amministratore può andare a settare manualmente tutte le impostazioni delle diverse applicazioni. Facciamo un esempio rispetto a Gmail, quindi posta. L'amministratore può decidere che gli utenti all'interno di questo spazio protetto comunichino soltanto tra di loro e non con gli utenti esterni. In più, gli amministratori possono sospendere ed eliminare gli utenti quando vogliono e analizzare tutta una serie di dati che possono farci capire come l'utente sta utilizzando il proprio account e quindi sta utilizzando anche le applicazioni che noi gli abbiamo messo a disposizione. Visto che questo spazio è collegato al nostro dominio, ovviamente gli utenti che sono all'interno non avranno più un'email come quella personale nostra tradizionale di Google che termina con chiocciolagmail.com, ma avrà un'email che termina con chiocciola e nome dominio, ad esempio chiocciolanomescuola.gov.it. Un'altra differenza rispetto all'account chiocciolagmail.com è che in quel caso abbiamo a disposizione in generale 15 GB di spazio, invece gli utenti delle Google Apps for Education, quindi gli utenti che rientrano all'interno di questo dominio protetto, hanno a disposizione uno spazio illimitato, quindi possono caricare ad esempio su Drive tutti i file che vogliono. Nell'info box vi lascio tutti i link ufficiali di Google per approfondire questi aspetti, ma adesso vediamo come fare richiesta gratuita di questi strumenti. Innanzitutto consiglio alle scuole di individuare sin dall'inizio quello che sarà l'amministratore, così potrà fare la richiesta delle Google Apps for Education e seguire questo percorso sin dall'inizio. Poi la scuola avrà bisogno di un dominio, quindi in sostanza il sito internet della scuola. Il dominio può essere acquistato anche durante la procedura di richiesta delle Google Apps for Education, a prezzi anche piccoli, ma vi consiglio di crearne uno prima, perché così potete scegliere voi ovviamente con chi aprire questo dominio. Se il dominio lo avete già, dovete anche essere in grado di entrare all'interno del web panel, quindi del pannello di gestione del vostro dominio. Perché? Perché dopo aver fatto la richiesta dovrete essere in grado di verificare prima il vostro dominio e poi di configurare la posta. Se non siete in grado di entrare direttamente all'interno del pannello di gestione del vostro dominio, ci sarà sicuramente la possibilità di mettersi in contatto con chi gestisce il vostro dominio e può fare questi passaggi per voi. Vediamo adesso passo passo la richiesta delle Google Apps. Innanzitutto entriamo sul sito per la registrazione, vi lascio il link diretto nell'info box e andiamo ad inserire i dati. Quando ci chiede nome e cognome e indirizzo email andiamo ad inserire quelli dell'amministratore, di chi sta facendo adesso la registrazione, quindi la persona reale. E poi andremo ad inserire i dati dell'istituto. Vedete? In fondo ci chiede il sito web dell'istituto perché ovviamente Google vuole sapere qual è il nostro dominio e andremo ad inserire quindi lì l'URL del nostro sito, che sarà probabilmente nomeistituto.gov.it. Dopodiché possiamo procedere indicando nel nostro caso che abbiamo già un nostro dominio e andandolo ad inserire e poi inseriamo i dati dell'account Google Apps dell'amministratore che sta facendo la richiesta. Entriamo con i nuovi dati dell'account, sempre da amministratore, ed entriamo direttamente all'interno del pannello di controllo. Qui andiamo ad avviare la configurazione. La prima cosa che ci viene chiesta è la verifica di dominio, quindi come dicevamo dobbiamo essere in grado di dimostrare che il dominio che abbiamo indicato è nostro. Lo possiamo fare in tre modi. Il primo è aggiungendo un metatag alla home page, ci viene indicato qual è questo tag da aggiungere e quindi lo possiamo andare ad inserire o chiedere a chi se ne occupa di inserirlo. La seconda modalità è quella di aggiungere un record nell'host di dominio e anche in questo caso ci vengono date tutte le indicazioni. La terza modalità è quella di caricare un file HTML all'interno del nostro sito. Deciderete voi qual è la modalità migliore per voi. Dopo aver fatto questo e verificato il nostro dominio procediamo con la configurazione dell'email perché potete portare la posta e utilizzare a questo punto posta che è Gmail. Anche in questo caso la procedura è guidata, infatti vi chiede passo passo di entrare all'interno del pannello di controllo del vostro dominio, di eliminare alcuni record che sono già presenti e di creare nuovi record MX. In questo modo la posta che verrà indirizzata agli indirizzi chiocciola nome del vostro istituto.gov.it potrà arrivare direttamente su posta su Gmail per le Google Apps. Ovviamente tra un passaggio e l'altro dovrete ricevere delle email che vi indicano che il tutto sta procedendo in modo corretto e dopodiché potete utilizzare il vostro spazio Google Apps for Education. Bene, avete visto che durante la richiesta delle Google Apps vi viene già dato a disposizione il pannello amministratore dove può entrare il primo amministratore che ha fatto la richiesta delle Google Apps. Vi verrà dato già in prova per 30 giorni finché non verrà autorizzata la vostra richiesta e quindi accettata e vi rimarrà comunque quel pannello che potete utilizzare per inserire i vostri utenti e fare tutte le altre cose che abbiamo detto prima. Il pannello amministratore lo vedremo nello specifico nel prossimo video. Spero che questo video vi sia stato utile. Scrivetemi nei commenti se avete già attivato le Google Apps per la vostra scuola oppure pensate di farlo. Io vi aspetto qui sul canale giovedì prossimo con il video riguardo al pannello amministratore. Ciao!